L'operazione Charcutiere si costituisce un componente della banda resosi reperibile, per lui l'accusa è dispaccio di sostanze stupefacenti. Cimitero Annola, dopo le prescrizioni il sindaco Biancardi annuncia la riqualificazione. Aria di sosta ancora libere a Nola, arriva la rinuncia della seconda ditta in graduatoria. La musica dei gigli, pura poesia, in concerto nell'atrio del palazzo comunale. Ad Angri è tempo di festa nella collegiata all'intronizzazione della statua del Battista. Ad Avella presentata la terza edizione di Avella Expo. Questi titoli, adesso pubblicità. Ciao! 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 Ben trovati dalla nostra redazione, si è costituito l'autotrasportatore 39enne di Pagani, risultato irreperibile nella giornata di ieri durante l'esecuzione delle misure cautelari nell'inchiesta Charcutier eseguita dai carabinieri del reparto operativo di Nocera Inferiore. Nuovo arresto nell'ambito dell'operazione Charcutier disposta dalla procura di Nocera Inferiore ed eseguita dai carabinieri del reparto territoriale, risultato irreperibile nella mattinata di ieri si è costituito l'autotrasportatore 39enne di Pagani, ricercato perché ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti insieme agli altri componenti del gruppo già arrestati ieri. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Il gruppo gestiva una florida attività di spaccio in alcuni comuni dell'Agro Nocerino, a Pagani, Angri e Cava dei Tirreni. L'attività di indagine, avviata nel maggio del 2014 e conclusa a dicembre dello stesso anno, ha portato all'individuazione del gruppo che avrebbe commercializzato cocaina in vari comuni. I carabinieri hanno lavorato anche con attività tecniche e dinamiche che avrebbero documentato numerosi episodi di spaccio, mentre l'approvvigionamento della droga avveniva nei comuni del Vesuviano. Oltre agli arresti di ieri, nel corso delle indagini, sono state arrestate due persone colte nella flagranza del reato e sequestrati 400 grammi di cocaina. Un giovane di 30 anni, Benedetto Chiariello di Acerra, è morto dopo essere precipitato da un belvedere della stada statale 366. Il giovane si era recato da Gerola insieme alla fidanzata per festeggiare il compleanno di quest'ultima. La coppia si è fermata al belvedere Fausto Coppi ed il giovane ha acceso una lanterna cinese, ma un ramo di un albero ha bloccato la lanterna e Chiariello si è esporto per liberarla, perdendo l'equilibrio. Il trentenne è precipitato per 50 metri, morendo sul colpo. Prescrizione Asla al cimitero di Nola. Sigilli ad aree ed uffici perché non a norma. Una vicenda legata ad esumazioni e inumazioni, ma anche allo smaltimento di rifiuti speciali che in città non avverrebbe. Il Comune ha bandito una gara proprio dedicata al conferimento in discarica dei rifiuti prodotti nelle aree cimiteriali della città. Dopo le prescrizioni dell'Asla ed il sequestro di alcune aree del cimitero cittadino, la politica Nola corre ai ripari. Punta a risolvere tematiche mai risolte che hanno generato disagi e carenza di servizi in un settore delicato come quello dei servizi cimiteriali. Un problema comune anche ad altre città e nel merito si contano numerosi interventi anche della magistratura e in comuni capoluogo che hanno cercato di far luce sulle gestioni dei camposanti, divenuti terra di nessuno. A Nola il sindaco Biancardi è pronto a dare una svolta, cancellare disagi, promuovendo un progetto di riqualificazione attraverso interventi di manutenzione straordinaria. All'alba del sesto anno di mandato sindacale il primo cittadino nolano si prepara ad effettuare la pavimentazione dei viali e la realizzazione dei sottoservizi idrici ed elettrici che porteranno finalmente acqua e luce alle cappelle. Eppure i fondi di accelerazione di spesa avrebbero consentito di ottenere finanziamenti a fondo perduto dedicati al recupero e alla riqualificazione urbana. Il treno è passato ed ora si rimedia con la manutenzione straordinaria. Meglio di niente. In merito alle prescrizioni dell'ASL l'area dedicata all'esimazione dei cadaveri presenta notevoli rischi igienici e così come sembrerebbe che in altre zone le casse ed altri rifiuti verrebbero ammassati in una stanza in attesa di essere smaltiti. E proprio legato allo smaltimento il problema è serio. Infatti il comune nolano è privo di un appalto per il trasporto nelle discariche autorizzate di rifiuti CER pericolosi e non tra i quali rientrano quelli cimiteriali. La gara prevede una base di 96 mila euro e scade il prossimo 26 giugno. Eppure in città esiste già un appalto per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani. Viene da pensare come mai per i rifiuti CER e gli sfalci di potatura sono state bandite gare diverse e non si è pensato ad un unico bando che avrebbe prodotto sicuramente vantaggi economici per le casse dell'ente. Oltre 50 ciamate di soccorso sono giunte ai vigili del fuoco di Napoli nel giro di 20 minuti per il nubifraggio che si è abbattuto sulla città pochi minuti prima delle 10. Da via Leonardo Bianchi nella zona collinare dei Camaldoli a Pianura, periferia occidentale, a piazza Ottocalli, periferia orientale, sono stati segnalati allagamenti di negozi e sottoscala a causa della mancata tenuta delle fogne in base dall'acqua piovana. E restano ancora libere le aree di sosta a Nola, ormai in balia di parcheggiatori abusivi. Dopo la rescissione del contratto con la società Atena, arriva la rinuncia della seconda ditta in graduatoria, la Smart Project di Casoria. Ora l'ente procederà all'interpello della terza ditta, la Unio Delta di Grosseto. Parcheggi liberi in città e occupazione delle aree da parte di parcheggiatori abusivi. Dalla sosta convenzionata a quella non autorizzata. A Nola l'affare parcheggi alimenta illegalità, mentre il Comune è ancora alla ricerca di una ditta che assuma la gestione delle aree. Dopo la rescissione del contratto con l'Atena, arriva la rinuncia anche della seconda ditta in graduatoria, la Smart Project di Casoria, per motivi organizzativi. Ora si è andati a scorrimento con l'interpello dell'Unio Delta di Grosseto, terza in graduatoria. Se la ditta accetterà l'incarico, dovrà versare l'agio concessorio spettante al Comune, secondo le modalità previste nel capitolato d'appalto. Mentre la burocrazia fa il soccorso, resta aperto un problema occupazione. I dipendenti in servizio in città per il controllo delle aree blu dal 1 giugno sono senza lavoro. Dunque occorre accelerare i tempi per definire la nuova gestione, che possa reintegrare al più presto la forza lavoro e per il Comune far ritornare ad incassare soldi, evitando un danno grave per le casse comunali, che soprattutto con l'avvicinarsi della festa dei Gigli, porterà in città migliaia di persone, che andranno ad arricchire le tasche dei tanti abusivi. Specifiche e articolate indagini sulle truffe online, conseguenti ad alcune denunce sporte da vittime in diverse regioni d'Italia, hanno consentito al personale della Polizia di Stato, appartenente al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, di identificare e deferire all'autorità giudiziaria in Stato di Libertà un uomo 47enne residente a Sarno, autore di raggiri telematici. I poliziotti hanno accertato che l'uomo pubblicava su un noto sito internet di Aste Online finti annunci di vendita di oggetti di vario tipo, proponendo agli acquirenti il pagamento, mediante la ricarica di una scheda post-pay, attiva presso un ufficio postale di Sarno, da cui prelevava le somme di danaro senza inviare la merce acquistata. In particolare la svolta delle indagini si è avuta a seguito delle denunce di truffa asporte da due persone presso gli uffici della Polizia Postale e delle Comunicazioni ed una residente a Genova, l'altra a Monza. La musica dei Gigli in concerto nell'atrio del Palazzo Comunale. Nola ha ripercorso attraverso le voci e i suoni la storia della poesia nolana fatta di versi speciali e resa melodia dai musicisti del passato. In due ore è ripercorso un secolo di storia musicale della festa dei Gigli. È la storia che continua, anche se con le necessarie innovazioni da cui non sono intaccati i profili della tradizione. E tuttavia, incentrata sui valori della tradizione, è l'impegno che da tempo viene profuso dalla professoressa Van D'Ambrosio per recuperare la specificità della musica dei Gigli. Una operazione culturale che si è rinnovata con il concerto diretto dal maestro Biagio Terracciano è svoltosi nel cortile del Palazzo di Città. È tuttavia incentrato sui valori della tradizione e l'impegno che da tempo viene profuso dalla professoressa Van D'Ambrosio per recuperare la specificità della musica dei Gigli. Una operazione culturale che si è rinnovata con il concerto diretto dal maestro Biagio Terracciano è svoltosi nel cortile del Palazzo di Città. Concerto di buon livello qualitativo grazie al pregevole repertorio di brani musicali e canori proposti. Uno spettacolo gradevole per un tuffo nel passato ma senza nostalgia e con tanti applausi meritati. Nel pomeriggio di ieri il personale della Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà MGL una 63enne di Casal di Principe con numerosi precedenti di polizia per i reati di tentata truffa, ricettazione nonché possesso in fabbricazione di documento di identificazione falso. Gli agenti della squadra volanti del commissariato di Aversa sono arrivati all'identificazione della donna a seguito di una capillare attività d'indagine. MGL si era presentata agli sportelli di un ufficio postale di Aversa per aprire una poste pay evolution esibendo un documento di identità che nonostante si presentasse apparentemente perfetto aveva richiesto ulteriori accertamenti per cui si era reso necessario l'intervento della Polizia. La donna accortasi della temporeggiare dell'esplodamento della pratica si era allontanata in sordina dall'ufficio all'arrivo dei poliziotti MGL aveva già fatto perdere le proprie tracce gli agenti hanno accertato che il documento di identità esibito allo sportello era contraffatto e sono arrivati all'identificazione della donna. Tappe di avvicinamento verso i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista ad Angri la città si prepara all'evento vivendo i momenti religiosi che accompagnano verso gli eventi liturgici del 28 e il 29 giugno domenica celebrata l'intronizzazione della statua adorata del Battista. Nel folklore religioso la festa di San Giovanni Battista è certamente una delle più emblematiche in occasione del solstizio estivo celebrato seguendo ancora l'antico calendario giuliano la notte che precede il 24 giugno si festeggia San Giovanni Battista. Nella cultura tradizionale la sua testa decapitata viene simboleggiata dal sole che espandendo i suoi raggi con benefiche appendici insanguinate conferirebbe proprietà rigenerative all'acqua del mare, dei fiumi, delle fontane persino alle gocce di ruggiata. Infatti le piante aromatiche e medicinali vengono raccolte in questa giornata. L'intero spazio temporale dell'Aurora quindi è saturo di significati simbolici e diventa occasione per stringere legami di comparatico tra amici e fraterni. L'acqua è il veicolo del rituale. Angri vive alla festa la città si prepara per festeggiare il Santo Patrono la collegiata ha tracciato l'inizio del cammino verso la festa patronale. L'intronizzazione termina arcaico per definire l'atto di far sedere in trono funzione con la quale in una famiglia o in un luogo si benedice e si espone al posto d'onore un'immagine sacra. Questo quanto avvenuto domenica scorsa nella chiesa madre della città. La statua del Battista ha lasciato la sua nicchia per essere deposta sull'altare maggiore per essere vista e venerata dai tanti fedeli che rinnovano il percorso di fede. I nostri fedeli nella venerazione verso San Giovanni possono arrivare ad una maturità di fede che è quello poi lo scopo per cui noi veneriamo i Santi e per cui noi celebriamo anche la loro festa. Lo scopo della chiesa è quello di portare e avvicinare sempre più le anime a Dio e se San Giovanni è un mezzo, una via, un modo allora va bene ed è quello lo sforzo costante che si cerca di fare. Quindi la festa di San Giovanni che che se ne dica in giro vuole essere solo questo un momento di maggiore preghiera di maggiore riflessione e poi a questo si aggiunge anche quello che è il folclore popolare tu dicevi fede contadina la fede è fede nel contadino, nel professionista, nel papa, nel vescovo, nel sacerdote in qualsiasi battezzato fede significa credere e avvicinarsi e vivere Dio anche quest'anno abbiamo la gioia di avere con noi il vescovo il quale presiederà alla liturgia della mattina è una gioia perché è il vescovo il pastore della diocesi eccetera poi la sera lui non può venire perché è impegnato a Roma e ci sarà il parroco il quale anche lui farà la sua parte e sarà anche quello un momento molto bello di incontro con le persone perché possiamo guardarci in faccia guardare San Giovanni e fare ognuno nel nostro cuore un proposito per una vita migliore L'avvocato molisano Salvatore Di Pardo notifica oggi per conto del centro-destra campano una diffida nei confronti del neoeletto presidente della regione campania Vincenzo De Luca per l'applicazione della legge Severino sulla sospensione dei condannati dalle cariche elettive Di Pardo è noto per essere stato illegale chi ha chiesto ed ottenuto l'applicazione della stessa legge nei riguardi di Silvio Berlusconi Ad Avella presentata la terza edizione dell'Expo il Comune ha rinnovato l'intesa con l'associazione I Rami del Melo rafforzando quella sinergia tra commercio artigianato e cultura per il rilancio del territorio Avella incontra Expo 2015 l'appuntamento è fissato per domani quando la delegazione della città del Clanio guidata dal sindaco Domenico Biancardi e dall'assessore Fabio Conte approderà al Padiglione Irpinia dell'Esposizione Universale di Milano portatrice e testimone dei valori del cospico patrimonio archeologico-culturale e delle eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche del territorio e dell'antica Avella la città fondata dagli osci una scelta che si innesta nell'ambito delle iniziative di promozione dell'area in atto da alcuni anni grazie alle sinergie tra l'amministrazione comunale e le associazioni ed Avella che incontra Expo 2015 nella prospettiva della globalizzazione ad Expo Avella nel segno della territorialità è la manifestazione fieristica promossa ed organizzata dall'associazione I Rami del Melo che andrà in scena dal 4 al 12 luglio nell'area del plesso scolastico di Via De Santis Expo Avella alla terza edizione si articola nelle sezioni dedicate all'artigianato all'industria, al tempo libero e alla cultura una programmazione di forte e chiara caratura strategica con cui Avella punta ad essere il contesto che si interfaccia per la posizione baricentrica che vanta supportata dagli assi viari, autostradali e ferroviari con tutti i territori della campagna Il nostro obiettivo è proprio quello quello di migliorarsi assolutamente siamo giunti alla terza, non credevamo però abbiamo tanta di quella voglia che credo che di lì a venire a pensare quando può finire mai io lo dicevo prima in sede di conferenza lo continuo a ribadire adesso io ho trovato qua un branco di guerrieri che non si fermano dinanzi a niente e a nessuno con il tempo ci siamo dotati di tutto quello che c'era anche come ufficio stampa qui abbiamo un ufficio stampa che è molto utile molto valido abbiamo un call center che funziona moltissimo abbiamo un'offerta bouquet di sera per quattro quarti dello spettacolo abbiamo nove giorni giù all'Expo con un boom di visitatori che cresce sempre di più parliamo di oramai decine e decine e decine di migliaia di spettatori che contiamo sempre di incrementare con punti di store dove lì puntiamo in nove giorni di Expo e di fiera a fare un villaggio, un appuntamento per le famiglie, per chi viene a visitare l'artigianato e l'agricoltura insomma un po' di tutto e un po' di più noi ovviamente abbiamo ancora tante altre idee ma come si dice, come dicevano i nostri padri antichi latini un percorso di mille miglia inizia con un sol passo ovviamente noi siamo già al terzo e l'orizzonte lo vediamo ancora tanto lontano vogliamo crescere anche di più novità, alcune ci sono già noi speriamo che ne arrivino altre in questi giorni perché in questi giorni stiamo come si suol dire, riempiendo la partecipazione alla fiera abbiamo novità come le eccellenze irpine che dovrebbero arrivare in fiera tramite un fast food grazie all'EPT di Avellino e abbiamo una rappresentanza di ristoratore della zona Vesuvio che per la prima volta verranno in fiera e noi siamo onorati di ospitarli la sinergia che si è creata con il comune è importante perché oltre a fare visita all'Expo ci sono anche la visita guidata ai monumenti della città ma io non a caso dicevo che questa Expo quando è nata nel 1976 si chiamava solo Expo Avella oggi noi l'abbiamo non a caso chiamato Expo Avella Città d'Arte perché riteniamo che lavorare per la crescita di un territorio come il nostro che merita dal punto di vista culturale e archeologico insieme al comune alla fine ci sta dando degli ottimi risultati e noi continueremo per questa strada Tutto il percorso avviato da questa esperienza amministrativa come ho detto in conferenza è stata ovviamente sollevata da quelle che sono le associazioni di questo paese i rami dal melo non sono solo fiera Expo di Avella ma sono tante manifestazioni che loro fanno durante l'anno e se noi facciamo un calcolo di quante persone loro portano in questo paese probabilmente possiamo ritenere che questa associazione insieme anche alle altre cerca di portare in questo paese un numero esagerato di turisti qui ad Avella certo stiamo crescendo perché non c'è solo i rami del melo c'è anche la fondazione ci sono tanti eventi ma questi eventi devono essere messi insieme rispetto ai beni culturali che noi abbiamo in questo paese oggi abbiamo fatto una manifestazione quella del castello qualche giorno fa dove abbiamo avuto riscontro quasi di 3.000 persone poi facciamo quella dell'anfiteatro facciamo altre ancora dove richiamiamo ovviamente bambini, genitori per conoscere la storia del nostro paese quella della fiera è un altro strumento attraverso il quale noi possiamo portare qui e convogliare ovviamente famiglie per conoscere la nostra cultura, il nostro territorio, la nostra storia quindi non è un discorso che vale come area nolana o area mandamentale ormai siamo proiettati per avere un discorso regionale noi stiamo puntando a questo abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare e credo che stando insieme uniti con le associazioni con il comune, la fondazione credo voi soprattutto che ci date una mano credo che possiamo raggiungere questi obiettivi data da ricordare il 24 luglio per tutti i fan della serie TV Glee l'attore Darren Criss sarà ospite della 45esima edizione del Giffoni Film Festival che si svolgerà dal 17 al 26 luglio proprio il 24 Giffoni ospiterà il Glee Foni evento cult dell'ambito del festival per i glicks di tutta Europa arriva quest'anno l'attore e cantautore statunitense che nella serie interpreta Blaine Devon Anderson lo studente apertamente gay dell'Accademia Dalton bene con questa notizia è tutto il telegiornale finisce qui a tutti voi grazie per averci seguito arrivederci a tutti gli sposi offerte eccezionali da Tufano Arredamenti camera completa con letto contenitore a 990 euro parete moderna vari coloni a 649 euro e parete attrezzata a 949 euro cucina 3 metri lineari con elettrodomestici classe A euro 1250 cucina componibile metri 360 completa di elettrodomestici classe A ad euro 1890 vetrina a 1590 euro tavolo allungabile fino a 2 metri a 249 euro madia moderna a 299 euro divano letto Doris a 649 euro divano angolare a 1090 euro camera contemporanea a 3490 euro inoltre per acquisti superiori a 2000 euro weekend per due persone presso il complesso turistico Villa Verde 20 Tufano Arredamenti 10.000 metri quadri di convenienza a Saviano in piazzale Ferrovia a K a